22 marzo eccoci qua buongiorno a tutti questa è la seconda edizione tg rassegna stampa di oggi la buona giornata da parte di marco revello e di luigi cano che cura la parte tecnica in regia che salutiamo oggi andiamo a vedere quali sono i santi ricordati e festeggiati dal calendario della chiesa cattolica santa lea di roma vedova che visse nel quarto secolo dopo cristo e poi ancora l'apparizione di maria santissima dolorata di castelpetroso san nicola owen e san basilio di ancira entrambi sacerdoti e martiri san benvenuto scottivoli beato clemente augusto von gallen e poi santi calinico e basilissa martiri san epafrodito e beato francesco luigi chartier beati mariano gorecchi e bronislao comorowski e san paolo di narbona tutti quanti martiri auguri a tutti coloro che oggi festeggiano ricordano il loro santo patrono e in questa giornata coloro che invece festeggiano un anniversario o il loro compleanno in questo 22 di marzo che si apre con una giornata caratterizzata da qualche velatura ma in un contesto assolutamente sereno con temperature che però nella notte ai bassi strati sono ancora scese mentre invece sulle alte cime del nostro entroterra sono salite ancora di qualche grado rispetto alle notti precedenti e allora andiamo a vedere le minime della notte partendo dai 1785 metri del monte bue qua la situazione vedete che è molto più serena rispetto alla bassa costa e quindi in alto in altura vedete che ce li sono assolutamente sereni e limpidi e però la temperatura non è più quella invernale dei giorni scorsi con appunto dei valori sotto lo zero qua siamo a 3 gradi e 3 in questo momento 2 gradi punto 9 è stata la minima della notte non possiamo dire che sia stato caldo ma neanche che sia più un clima completamente invernale poi 2.4 al prato della cipolla sempre sopra lo 0 3.3 a rocca daveto valori positivi anche sulla bassa val daveto ma un pochino più bassi 0.1 a rezzo aglio basso e invece a cabane di rezzo aglio siamo andati sotto lo zero con meno 1.1 quindi come vedete c'è stata l'inversione termica quindi al suolo la temperatura è più bassa rispetto alla quota negativa anche la temperatura di parazzuolo di rezzo aglio poi passiamo invece al resto dell'entroterra quello sotto i millimetri ai 500 metri di casali borzonasca 8 gradi e 3 8 gradi e 4 a bel piano 7 gradi 8 a san sirofoce in valgraveglia pontori 10 gradi punto 3 in val fontanabuona a favale di malvaro 6 gradi punto 7 a tribugna 9 gradi punto 4 a villa oneto 9 gradi punto 6 e 5 gradi punto 4 a pezzo nasca di i moconesi scendendo sulla riviera la temperatura più bassa è stata registrata nella zona del golf di rapallo con 7 gradi sopra lo zero mentre invece sua santa margherita sul porto 9 gradi e 6 sul lungomare di rapallo 8 gradi e 7 sul porto di chiavari 9 gradi e 3 mentre invece nelle zone interne siamo scesi sugli 8 gradi poi 8 gradi e mezzo al porto di lavagna 8 gradi 8 dalla piazza del municipio pazzi piazza matteotti di sestri levante e poi ancora 11 gradi e 4 a moneglia località la secca 11 gradi e 4 anche a genova nervi nel centro genovese per esempio a staglieno abbiamo avuto 8 gradi punto 1 nel ponente sempre genovese a pra 11 gradi punto 1 a savona 8 gradi e 2 quindi temeratona un po più bassa ad imperia 9 gradi 1 a 20 miglia 10 gradi e 6 e a la spezia 10 gradi e 2 nel corso della giornata le temperature saliranno un po meno rispetto a ieri perché ci sarà una maggiore copertura nuvolosa nel corso del pomeriggio e quindi molto probabilmente le temperature non andranno oltre i 15 gradi mentre ieri abbiamo avuto delle punte intorno ai 18 19 gradi ma cambia è cambiata anche la ventilazione che arriva da sud e quindi nel corso del pomeriggio ci sarà un rinforzo dello scirocco in particolare sul tiguglio occidentale per quanto riguarda il mare non avremo poi un mare particolarmente agitato anzi sarà mosso soltanto a largo poco mosso sotto costa la situazione di queste giornate quindi è caratterizzata da un aumento della nuvolosità che vedremo meglio ancora domani quando il cielo si presenterà praticamente quasi tutto nuvoloso ma pochissime precipitazioni le uniche precipitazioni probabili sono nel centro della regione quindi tra savona e genova nel resto della liguria non pioverà praticamente o pioverà pochissimo poi nel corso della fine settimana potrebbe transitare nuovamente una perturbazione veloce pare nella giornata di domenica mi dispiace nuovamente un'altra domenica un po' uggiosa e quindi potrebbe arrivare una perturbazione domenica però di questo dobbiamo parlarne meglio nei prossimi giorni perché siamo soltanto a mercoledì quello che invece possiamo dirvi con certezza sono appunto leggere insieme i titoli dei quotidiani ne dico la questa mattina iniziando da avvenire che dà l'apertura all'asse tra Putin e Xi Jinping quindi tra la Russia e la Cina nuove asse vecchie armi Xi e Putin alleati per un assetto multipolare che appunto vede in odio e ostilità agli Stati Uniti quindi i due presidenti al Cremlino uniti da energia e affari e ostilità agli Stati Uniti Zelensky aspetta adesso una telefonata da Pechino anche se insomma ormai Xi Jinping non può più fare tanto il mediatore diciamo così diciamo super partes perché si è schierato completamente dalla parte di Putin l'invito a trattare con l'Ucraina sulla base del piano cinese che però è un piano che sappiamo benissimo che Kiev riespingerà con forza ma anche Putin non lo ama tantissimo chiaramente in questo momento fa buon viso a cattivo gioco e poi Londra ieri ha sparigliato le carte in tavola annunciando l'invio alle truppe di Kiev di proiettili all'uranio impoverito e qua sarebbe appunto un escalation nucleare che insomma non porterebbe molto molto bene. Giornata della memoria dell'impegno e ricordo delle vittime delle mafie ieri in tutta Italia 21 marzo e ieri il presidente della Repubblica Mattarella è stato a Casal di Principe in provincia di Caserta dove molti anni fa morì Don Diana si ricorda un po' meno rispetto a Don Puglisi però è stato anche lui un martire delle mafie parte dai giovani no alle mafie Mattarella celebra Don Diana nel ricordo delle vittime a Casal di Principe e Milano. E poi ancora assistenza anziani ecco la rivoluzione più servizi a casa è un assegno universale una delle prime parziali sfide vinte dalla legislatura da parte di maggioranza e opposizione insieme che sul tema dell'austosufficienza e terza età hanno messo da parte i toni ostili quindi ogni tanto un po' di ragionevolezza fa bene. Utere in affitto invece che divide moltissimo il centro-sinistra dal centro-destra. Il centro-destra lo vuole negare in tutti i modi anzi addirittura a fare diventare un vero e proprio reato mentre invece il centro-sinistra lo difende non solo ma l'Unione Europea lo difende riconoscere i figli nati proprio dagli uteri in affitto. E poi consume e sprechi, l'acqua è a rischio oggi è la giornata mondiale dell'acqua quindi facciamone buon uso ma soprattutto facciamo la danza della pioggia. Accusi TikTok, video pericolosi per i minori, l'antitrust e poi lascia la guida di RNS Martinez e Pentecoste così l'ho raccontata. E poi c'è l'editoriale a firma di Mauro Magatti passi senza più sincronia USA e Francia, Stati Uniti e Francia, crisi eloquenti. Va bene questa è la prima pagina di avvenire, veniamo invece sulla prima pagina del secolo XIX, rovinati dal super bonus la manifestazione di ieri degli edili qua in Largo Lanfranchi davanti alla prefettura di Genova e Genova le imprese edili bloccano il centro con 500 mezzi, alla Camera la maggioranza non trova l'intesa sui 12 miliardi di crediti incagliati. E poi ancora della prima pagina del secolo armi all'Ucraina, Meloni al Senato conferma la linea ma la Lega frena, Romeo dice rischio di non ritorno andando avanti con gli armamenti. E poi appunto a proposito di questi di non ritorno Londra fornerà a Kiev proiettili all'uranio, Mosca rischio nucleare, si rinforza chiaramente l'asse Russia-Cina. E poi ricorderete il giallo nel giallo perché ricorderete tutti la morte della Contessa Vracca Augusta a Portofino nella sua splendida villa che tra l'altro adesso è proprietà di un magnate russo e quindi è bloccata, congelata, con dei lavori in corso e anche lì una crisi terribile. Va bene. E quindi quella villa si conferma essere un po' una villa, dicono insomma, che non porta benissimo, non diciamo parole eccessive, ma è una villa che ha delle storie non troppo belle intorno e anche questa appunto non è da meno. Cioè è stata acquistata da un magnate russo ed è stato bloccato chiaramente anche questa operazione. Ma nella morte della Contessa Vracca Augusta c'era un altro mistero, cioè dove finirono tutti i suoi gioielli, i gioielli scomparsi della Contessa, tutti assolti in appello. Colpo di spugna appunto del primo grado di giudizio che aveva invece condannato ben sei indagati, prosciolti il maggiordomo, l'ex compagno della nobile donna Maurizio Raggio, noto alle cronache, e così la scomparsa dei preziosi rimarrà un giallo per sempre. E qualcuno se li godrà, insomma, perché alla fine qualcuno li avrà presi. Il super ispettore, report di aspi diversi dalla realtà. E poi ancora, chiaramente qua fa parte del processo Morandi che è entrato in una crisi perché c'è stato uno scontro addirittura ieri tra il pubblico ministero e i giudici sulle lungaggini poi fondamentalmente di questo processo che molto probabilmente finirà l'istruttoria nel 2025, cioè stiamo parlando di due anni. Quindi c'è veramente rischio di prescrizione per gli indagati. E poi l'analisi di Pepino Ortoleva perché la destra cerca lo scontro sui valori e Genova si arocca evitando improvvisazione e il commento di Renato Tortarolo sul futuro di Genova, soprattutto dopo l'apertura di una parte del porto, quello del waterfront cosiddetto di Levante. Poi il calvario di Acqui senza terme, che non è proprio vero. Adesso questo titolo, insomma, io fossi di Acqui mi arrabbierei molto perché in realtà Acqui ha le sue terme, sono terme private, chiaramente sono termi degli alberghi, però ce li ha. E quello che invece è andato un po' in stallo sono i lavori alle terme pubbliche, quelle all'aperto, quelle prima del ponte romano, il calvario appunto di Acqui senza terme, gli abitanti così il paese muore e slitta ancora la riapertura via le concessioni per la regione. E poi travolta è uccisa sulle strisce pedonali ma con il rosso muore una novantenne nel centro di Recco. L'Anne Zangrillo insieme proprio a Recco ad un famoso ristorante, la Manuelina, derby al ristorante. Va bene, adesso andiamo invece nelle pagine interne del secolo XIX e troviamo vari articoli su tante iniziative che si sono tenute anche sul nostro territorio in, diciamo, anche in relazione alle varie giornate. Oggi è la giornata dell'acqua ma ieri è la giornata delle vittime delle mafie. Vittime innocenti di mafia, i ragazzi del liceti vanno a Milano, un video degli studenti per l'incontro con Don Ciotti con l'Associazione Libera, vediamo appunto alcuni studenti, nel centro di Milano. E poi invece si parla di altri temi come la sanità. Vai tranquillo, insegna buone pratiche di vita e abitudini salutari. A Santa Margherita Ligure sono coinvolte le scuole ma non solo di sanità ma anche di come si può vivere in maniera più tranquilla con gli uomini della protezione civile che hanno dato anche loro l'apporto insieme a associazioni come Avis, Aido, Admo, Pubblica Assistenza, Croceverde insomma tantissime forze della società san margheritese che si sono coordinate proprio per insegnare ai ragazzi buone pratiche di vita. E poi colloqui fiorentini, il Marconi del Pino di Chiaveri fa incetta di premi il liceo Chiavarese super nell'anno di Calvino, studenti e docenti dicono è stata una grande esperienza per questi colloqui fiorentini. Un'altra iniziativa scolastica che si è svolta all'Accademia del Turismo di Lavagna si parlava di diritti e di dignità delle donne. Donna, appunto, dignità e diritti negati, Accademia del Turismo in campo progetto degli alunni del quarto anno di corso con l'Associazione Futura. ma per spiegare meglio questo progetto e come si è sviluppato abbiamo realizzato ieri un servizio che adesso andiamo a riproporre. La difesa dei diritti, la condizione della donna nei paesi dell'Oriente e del Medio Oriente, il concetto di libertà di espressione. Questi temi che gli studenti della classe quarta dell'Accademia del Turismo di Lavagna hanno raccontato negli ultimi due mesi in un blog realizzato nell'ambito del progetto Donna, Vita e Libertà. Grazie alla guida dei docenti e alla collaborazione con l'Associazione Futura i ragazzi hanno potuto affrontare un percorso di formazione legato al loro cammino scolastico. Dato che il loro esame sarà di competenza digitale, quindi dovranno fare un blog, ho chiesto a loro in completa autonomia per un paio di mesi di creare un blog. Quindi il primo mese tutta la classe è stata coinvolta nel ricercare con spirito critico, con attenzione e intelligenza delle informazioni, leggerle, commentarle. Dopo il primo mese c'è stata la selezione e dopo un mese, qualche giorno fa, il 17 marzo, i finalisti hanno esposto il loro progetto e sono risultati i vincitori, un ragazzo di sala bar, Simone Bavestrello, e una ragazza invece di cucina, Annalisa Sivori. Sono state anche in classe delle testimonianze con ragazze afghane che mi hanno aperto molto il modo di pensare e appunto pensare che noi qui in Italia siamo molto fortunate e a volte ci lamentiamo per cose che loro neanche possono immaginarsi. È stato molto soddisfacente anche il risultato finale perché non pensavo da queste escalation dall'inizio, che avevamo una pagina in sostanza, ad avere quasi 18 schede di argomenti e di diverse dinamiche. La conclusione del progetto e l'assegnazione delle borse di studio sono state l'occasione per presentare i traguardi raggiunti dal lavoro dei ragazzi, fondamentale la collaborazione con l'associazione Futura che ha organizzato anche alcuni incontri con testimonianze di chi sta vivendo in paesi dove i diritti non sono sempre garantiti. L'Accademia del Turismo ha risposto alla grande attivandosi con persone che stanno lavorando in questi contesti da tempo hanno scelto di dedicare quindi questo lavoro a Masa Amini, la prima ragazza che in pratica è stata uccisa in Iran e da cui è scatturita tutta questa rivoluzione che ci sta dando una lezione incredibile. Oggi è il secondo giorno di primavera, ieri abbiamo festeggiato l'arrivo della bella stagione della primavera e nel primo weekend di primavera, come di consueto, si svolgeranno le famose giornate del FAI. E allora andiamo sul secolo di oggi, anche i tesori del Levante alle giornate del FAI. In vetrina, naturalmente, in primis, l'Abbazia di San Fruttuoso di Camogli, ma anche la chiesa di San Martino di Licciorno, Casa Carbone a Lavagna e la Basilica dei Fieschi che sappiamo recentemente ha vinto anche una classifica in Liguria tra i luoghi, diciamo, i siti più amati e sesto in Italia, quindi davvero un bel piazzamento. Aperture straordinarie a contributo libero per scoprire il fascino di un patrimonio unico, quindi si possono visitare tutte queste strutture nel weekend di primavera, in particolare domenica, e ci saranno visite guidate completamente gratuite ad offerta libera per festeggiare l'inizio della primavera, sabato e domenica, queste giornate del FAI tra fede, storia, arte e natura. E noi, naturalmente, andiamo anche ad altre notizie, sempre dal nostro territorio, sempre dal secolo XIX, Copello e i ragazzi della Fondazione Cif, sorprese speciali nelle uova di Pasqua, la storica pasticceria chiavarese propone una linea solidale con gli oggetti realizzati appunto dai giovani della Fondazione Cif, progetto inclusivo. Andiamo naturalmente oltre e parliamo però anche di lavoro, di possibilità di sviluppo dell'impianto del grande cantiere, della Fincantieri a Riva, Fincantieri ok dei sindacati al piano su viabilità e nuovi pontili. Il mondo del lavoro interviene dopo la sigla dell'accordo d'intesa tra regione, comune e appunto azienda. Buffa della Wilm dice sia un iter veloce, Davide della FIOM vantaggi per Riva Trigoso, Carbonaro, film Cisle, prospettive per l'occupazione, Muzio, tutelare, Renà. Soddisfazione dopo la firma per la sinergia tra comune, regione e azienda. Appunto ne godranno anche i lavoratori con lo sviluppo del cantiere, soprattutto verso il mare, e quindi la possibilità di nuove realizzazioni e quindi anche di nuovi innesti di personale. E poi andiamo a Recco, inaugurato il municipio appena restaurato. Appunto Recco ha fatto un po' il restyling del municipio, è stata una breve cerimonia, vediamo appunto il sindaco Carlo Gandolfo che ha tagliato il nastro e quindi la cerimonia, chiaramente il comune ha sempre continuato a funzionare, quindi non è che è stato chiuso e riaperto, quindi è chiaro che in questi casi si fa una cerimonia molto più soft, ma intanto sono arrivati a fine tutti i lavori, il restyling che è stato finanziato con oltre un milione di euro grazie alla concessione di un contributo filse a fondo perduto per 758 mila euro, un'ulteriore quota di 200 mila, proveniente dai servizi energetici, mentre il comune ne ha impiegato 100 mila. E comunque alla fine, adesso il municipio di Recco è completamente restaurato. Cambiamo argomento e diamo la linea a Cristina Oneto che vedo prontissima in redazione. Buongiorno Cristina. Buongiorno Marco, un saluto a tutti i radioascoltatori, i telespettatori. Dalla redazione intanto ricordiamo alcuni appuntamenti che stanno caratterizzando questo cammino quaresimale verso la Santa Pasqua e ricordiamo innanzitutto un appuntamento per la serata di questa sera, anzi in realtà sono due gli appuntamenti. Uno riguarda le parrocchie di Lavagna, ci sarà la veglia di Quaresima con la testimonianza di Suora Nisette, una suora che abbiamo conosciuto anche noi, una suora missionaria che opera nei vicoli di Genova a sostegno delle ragazze prostitute. L'incontro sarà alle 21 nella Basilica di Santo Stefano a Lavagna. Questa sera inoltre iniziano gli esercizi spirituali predicati dal Vescovo Monsignor Giampio De Vasini nella cattedrale di Nostra Signora dell'Orto a Chiavari. Oggi, domani e dopodomani il Vescovo alle 19 presiederà questo momento di riflessione sul tema La felicità è possibile, le beatitudini in Matteo. Le riflessioni del Vescovo verranno proposte poi in differita su Telepace 2 al canale 85 a partire dalle ore 21.45. Ricordiamo inoltre che il Vescovo sempre in questo periodo domani e dopodomani alle 7 presiederà anche la preghiera delle Lodi. E ora andiamo a vedere tutto un altro ambito di azione ovvero quello sportivo perché c'è grande attesa a Lavagna per la sfida di Champions League di pallanuoto che verrà disputata alle 18.30 nella piscina del Parco Tigulio tra Prorecco e Hannover si tratta della decima giornata di Champions League un turno che potrebbe significare molto in vista della Final Eight. I biancocelesi sono terzi e inseguono il duo Barceloneto-Olympiakos che saranno protagonisti di una sfida sempre quest'oggi ma alle 19 ovvero mezz'ora dopo scenderanno in vasca. Ma vediamo come stanno andando i preparativi e quali sono anche le attese di questa partita straordinaria che si disputerà appunto a Lavagna. Appuntamento di spicco per Lavagna capofila della Comunità Europea dello Sport 2023 il match di Champions League tra Prorecco e Hannover che si disputerà nella piscina del Parco Tigulio accende i riflettori sulla massima competizione europea con i grandi protagonisti della pallanuoto. I recchellini si presenteranno alla sfida cariche e desiderosi di cancellare il ricordo dell'ultima partita disputata a Milano che li ha visti soccombere al Barceloneta per 9 a 8. Sicuramente sì perché comunque veniamo da un periodo di pausa e purtroppo ci siamo lasciati dopo la sconfitta di Milano col Barceloneta quindi abbiamo grande voglia di rivals abbiamo voglia di tuffarsi in Champions League perché comunque il nostro obiettivo resta quello di raggiungere il primo posto. Ritrovati oggi i ragazzi della Nazionale sono in grande forma perché hanno disputato comunque 5 partite ma allo stesso momento ha avuto tempo per rifiatare in quanto il mister gli ha dato qualche giorno di pausa quindi abbiamo grande voglia di sfidare la Nover che avvanta alcuni giocatori interessanti da tenere d'occhio e sarà comunque un buon test. L'abbiamo visto sia appunto in World Cup ma anche l'anno scorso io penso che in squadre allestite come le nazionali come può essere la Proreco e anche le altre squadre di Champions League anche il ruolo del secondo portiere diventi molto importante appunto perché si può intercambiare può entrare può dare uno scossone che non sempre è dovuto solo al ruolo del portiere ma poi tutta la difesa. Per favorire la partecipazione da parte del pubblico alla piscina lavagnese sarà giunta una tribuna da 160 posti al termine della gara ci sarà il cosiddetto quinto tempo i giocatori della Proreco incontreranno all'esterno dell'impianto i piccoli pallanuotisti presenti e saranno a disposizione per firmare poster e gadget il ruolo dei tifosi anche ai fini del risultato non sarà secondario. Fa grande piacere in quanto ci rendiamo proprio conto che quando andiamo in questa piscina abbiamo la spinta del pubblico che è proprio a piacere di vederci e vediamo un sacco di entusiasmo soprattutto nei ragazzi più piccoli i ragazzini delle scuole nuoto pallanuoto è una cosa veramente stupenda Lavagna penso che risponderà appunto con un sold out e sicuramente in maniera molto calorosa. Dai un bel appuntamento per coloro che amano lo sport anche qua sul nostro territorio e ritorniamo a Sestri Levante dove sappiamo che tra meno di due mesi saranno celebrate le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione del nuovo sindaco e uno dei temi caldi lo abbiamo detto e sarà davvero davvero importante anche nelle prossime giornate e di questa campagna elettorale Sestresa è sicuramente il futuro dell'ospedale del nosocomio di Sestri Levante che sappiamo è stato depotenziato rispetto al passato e adesso ha una fase un po' così interlocutoria Pistacchi prende una posizione su questo tema già gli scorsi giorni vedevamo le posizioni di Massucco di altri Pistacchi uno dei candidati che è il candidato ufficiale del centrodestra e il tema della sanità all'ospedale non sarà depotenziato intanto in una delle liste che appoggiano Pistacchi che è una lista civica cioè non ha un colore politico appunto è anche inserito Martino Tassano che è stato candidato a sindaco per il Movimento 5 Stelle qualche elezione fa e adesso appoggia la lista civica Sestriamo che appunto appoggia il candidato del centrodestra Diego Pistacchi allora adesso andiamo a parlare di altri argomenti sempre dal secolo di oggi purtroppo una notizia luttuosa che è arrivata da Recco travolta mentre attraversa la strada novantenne muore a Recco incidente in via Roma è il terzo in pochissimi mesi nella stessa strada la vittima pare fosse sulle strisce scatta l'allarme alla guida dell'automobile che ha investito l'anziana c'era un giovane di 24 anni però pare che in quel momento il semaforo fosse rosso e i pedoni di Recco dicono il semaforo rosso scatta troppo in fretta e il sindaco risponde faremo verifiche la donna che aveva compiuto 92 anni lo scorso 5 marzo è stata travolta da una Fiat Panda condotta da un 24enne Recchese l'anziana è stata sbalzata per alcuni metri finendo sull'asfalto l'impatto è stato violentissimo ai primi soccorritori alcuni passanti si sono resi subito conto della gravità e nonostante l'allerta quindi sia partita subito il croce verde di Recco è arrivata in pochissimo tempo ai medici del 118 ma le cure non hanno evitato il peggio la 92enne è ispirata pochi minuti dopo l'incidente senza mai riprendere conoscenza naturalmente ora si apriranno delle indagini su questo fatto l'autista non era assolutamente sotto l'effetto di nessun tipo di droga o alcolici quindi adesso si tenterà di capire bene la dinamica ricordiamo altri precedenti sempre sulla stessa strada più o meno allo stesso attraversamento pedonale 23 gennaio 2023 investito un pedone che è stato ricoverato poi in codice rosso l'11 novembre sempre dell'anno scorso però ha investito un altro pedone era stato ricoverato in codice giallo tra le cause della pericolosità dell'attraversamento vengono arrivate oltre a eventuali imprudenza dei pedoni la scarsità del tempo a disposizione per attraversare la scarsa visibilità per la presenza attualmente di impalcature nasce la prima stoviglioteca a Nè piatti e posate a disposizione gratuita di chiunque ne ha bisogno gli obiettivi eliminare l'usegetta nell'ottica dell'economia circolare sia feste e picnic però sostenibili appunto e poi ancora scolmatore dei torrenti progetto esecutivo a un pool di imprese anche se poi mancherebbero i fondi per realizzare l'opera al momento è stata formalizzata però l'assegnazione del progetto esecutivo dello scolmatore dovrebbe mettere in sicurezza il San Siro al magistrato che sono i due torrenti che scorrono sottoterra a Santa Margherita per gran parte del loro tragitto e anche compresa poi la foce l'appalto da oltre 800 mila euro è stato aggiudicato per raggruppamento di imprese però adesso servirebbero anche i soldi 40 milioni di euro per realizzare l'opera adesso si fa il progetto poi i soldi si spera si troveranno in futuro andiamo invece alla prima cioè la prima pagina la pagina principale diciamo così del Levante Ligure si parla ancora una volta dell'aumento di appartamenti a disposizione di turisti anche per brevissimi soggiorni anche soltanto per una notte le famose case vacanze case per ferie chiamatele un po' come volete Riviera Boom delle case vacanze investire sul tirismo Rende Rapallo guida la classifica delle città con più strutture a locazione breve Sartori che è il attuale assessore al turismo della regione dice lotta agli abusivi vediamo che Rapallo a 1187 case vacanze contro i 1055 di Sestri 424 di Chiavari 472 di Santa Margherita Ligure quindi vedete che Santa Margherita pur essendo forse un terzo di Chiavari ma forse anche meno ha più appartamenti 50 appartamenti in più a disposizione perché Santa Margherita da sempre è una città di seconde case 363 Moneglia 358 Camogli e anche Lavagna 140 Recco 128 Zoagli e 76 a Portofino e anche nell'entroterra il fenomeno delle case vacanze è sempre più diffuso quella dell'affitto breve è una pratica apprezzata dai turisti perché rende magari diciamo questi immobili disponibili anche nei weekend per esempio adesso di primavera ma anche d'inverno per qualsiasi situazione Sestri Levante un bando riservato ai residenti con scadenza 27 aprile il piano di sostegno agli inquilini come presentare la documentazione perché appunto il secolo dice se abitare un lusso perché nel nostro territorio col fatto che molte case vengono affittate ai turisti con prezzi davvero molto molto alti quasi da albergo è chiaro che si trovano pochissimi alloggi in affitto per tutto l'anno e comunque anche se si trovassero sempre i canoni sono assolutamente irraggiungibili molte richieste per alloggi in affitto ma l'offerta è scarsa dice un immobiliarista di Rapallo per gestire l'ospitalità servono dedizione impegno costante dice la presidente dell'associazione ex alberghiera di Chiavari e poi servono incentivi i comuni ci aiutino a destagionalizzare per capire un po' di aprire un po' la possibilità di avere anche tanti turisti d'inverno il depauperamento della residenzialità origini lontani dice l'assessore ai servizi sociali e il vice sindaco Emanuele Cozio a Santa Margherita Ligure in effetti questa residenzialità è venuta meno alla fine degli anni 70 quindi insomma ormai sono passati quasi 50 anni ma adesso passiamo invece la linea alla redazione perché da 50 anni fa arriviamo all'oggi con tutti gli appuntamenti di questa giornata sentiamo Gli appuntamenti di mercoledì 22 marzo apre alle visite il Museo Dio Cesano di Alte Sacre in piazza Nostra Signora dell'Orto 7 sono esposti dipinti argenti su pellettili e paramenti liturgici si possono vedere dalle 10 alle 12 è aperta alle visite la mostra fotografica di Giuliana Traverso la fotografia come incontro curata da Orietta Bay e organizzata dal gruppo fotografico DLF Chiavari è allestita all'auditorium San Francesco di Chiavari ed è visitabile fino al 26 marzo dalle ore 16 alle 19 prosegue la rassegna la storia in piazza al cinema Sivori di Genova alle 16 alle 20 e 30 si vedrà il film Il Ponte delle Spie di Steven Spielberg per i corsi di cultura di Chiavari Rosanna Vagget in una lezione di medicina su pandemia e società alle 16 e 15 nella sala livellata di Via del Pino per i corsi di cultura genovese l'archeologo Roberto Maggi tiene l'incontro 8 mila anni fa la migrazione che cambiò l'economia e le società in Europa alle 16 e 30 nell'auditorium di Largo Pessagno a Chiavari al cinema Odeon in corso Buenos Aires a Genova è l'ultimo giorno per vedere il docu film Liga Bue 30 anni in un giorno regia di Marco Salom inizio alle 18 e 30 infine al teatro di Bocchiera di Genova va in scena lo spettacolo Cefore Omenidi la seconda parte dell'orestea diretta da Davide Livermore che riprende l'opera di Eschilo inizio alle 20 e 30 Allora il bel tempo insomma il soleggiamento che vediamo in questo momento verrà un po' meno nei prossimi giorni perché si avvicina un flusso perturbato atlantico che in realtà scorre alle attitudini molto più alte della nostra però con voglia dell'aria umida che qua sul nostro territorio si consolida diventa nuvolosità che può dare luogo anche a qualche precipitazione domani e dopo domani sono previste dei piovaschi dei piovigini soprattutto sul centro della regione quindi tra Savona e Genovese ma andiamo per gradi quindi il pomeriggio sarà caratterizzato dall'aumento della nuvolosità che insomma sarà soprattutto importante sul centro della regione un po' meno ai lati quindi estremo levante estremo ponente rimarranno delle schiarite con venti che inizialmente sono a regime di brezza lungo tutto l'arco Ligure ma poi diventeranno libeccio a largo e sulla costa invece diciamo ritornerà come scirocco moderato quindi tra Tiguglio e Golfo di Genova nelle ore centrali della giornata il mare è poco mosso sotto costa mosso a largo le temperature oggi nonostante tutto saranno in leggero calo perché? perché c'era un minore soleggiamento quindi l'aria si scalderà meno poi domani la nuvolosità dovrebbe esserci già nella prima parte della giornata con appunto precipitazioni sul Genovesato occidentale e parziali schiarite ai lati della regione quindi spezzino imperiese venti moderati o a tratti tesi da libeccio a largo scirocco di ritorno tra Golfo di Genova e Tiguglio occidentale intermittente altrove mare generalmente mosso temperature in ulteriore aumento le minime di domani cioè della notte tra oggi e domani e in calo le massime domani complice la maggiore nuvolosità nella giornata di venerdì continueranno gli annuvolamenti e qualche goccia di pioggia proprio sul centro della regione anche nell'entroterra savonese ma di questo naturalmente parleremo meglio domani per il momento io ringrazio Cristina Oneto che è stata in redazione con noi e che adesso sta preparando il TG con il prossimo edizione alle 12.45 e saluto naturalmente anche Luigi Cano che ha guidato la parte tecnica in regia tutti voi che ci avete seguito l'appuntamento con noi domani mattina 7.30 8.10 da parte di Marco Revello l'augurio di una buonissima giornata a tutti grazie a tutti a tutti Grazie a tutti.